Open content, open data, open source, open hardware, open government. La pubblicistica e la retorica politica si sono impossessate del termine open piegandolo spesso a interpretazioni di comodo e dimenticando il suo senso profondo e la matrice originaria. Il senso profondo della parola open ha a che fare con la cooperazione tra gli esseri umani, mentre la sua matrice originaria va rintracciata nella cultura hacker da cui è gemmata. Il libro Un dizionario hacker è un tentativo nuovo, diverso, forse modesto nella portata, di raccontare la lotta per la liberazione dei dati e delle informazioni all'interno delle culture hacker e all'interno dei movimenti per la pubblicità del sapere che considerano il copyright tradizionale antiquato e totalitario. Il libro è organizzato come un lemmario in cui di ogni parola si dà storia, definizione, esegesi, un'interpretazione critica e non neutrale. Parole come anonymous, come autodifesa digitale, come censura, copyright, privacy, software libero, wikileaks, network, tutte queste parole sono raccontate con uno spirito critico da me, un dizionario hacker.